Poi c'è un altro problema, quello del cantiere qui davanti che è sempre pieno di materiali. Sembra un cantiere, in effetti questo pezzo di terra triangolare, innanzitutto diciamo che dal piano regolatore questa dovrebbe essere zona verde oppure di impianti sportivi. Lei ha visto, quindi è anche una zona che ha una grande vocazione ambientale, naturalistica, fondamentalmente si sta tranquilli perché il rumore di fondo durante la notte è praticamente zero, non c'è traffico. Questa è stata trasformata in una zona industriale per quanto riguarda l'isola ecologica, a mio avviso in chiarissima violazione di legge. E poi dopo c'è stato questo tentativo da parte del comune di dotare questa zona appunto di un impianto sportivo come da piano regolatore, doveva venire in questo triangolo di terra un'area attrezzata per i ragazzi, per i bambini. So che ci doveva essere un campo di calcetto, di basket e altre strutture perché i ragazzi potessero fare sport. Lei vede com'è ridotta. Praticamente il comune, so che i soldi per realizzarla sono stati utilizzati, io non sono più nell'amministrazione comunale. Ci sono delle notizie che mi vengono, i soldi che dovevano essere utilizzati per la costruzione di questa area sono stati già utilizzati per altre cose, per la notoria situazione economica in cui versi il comune di L'Acquamino. E' ad essere ridotta così, cioè praticamente è abbandonata a se stessa, ci sono degli sterpi, delle erbacce, ci sono degli animali che vivono lì dentro, insomma anche ratti. E delle volte c'è anche qualche carogna, qualche animale che va a morire là dentro e che ovviamente attira tutto il resto della compagnia. In più a questo si è aggiunto che penso, perché non è dichiarato, ma le varie amministrazioni lo utilizzano come terreno in cui mettere temporaneamente, ma temporaneamente fino a un certo punto, perché la situazione è così ormai da anni, tutto il terreno di risulta dei cantieri di L'Acquamino.